Buon pomeriggio, oggi una giornata super piovosa, quindi per rallegrarmi, per tirarmi un po' su di morale, parlerò con voi di le mie agende. Notebook, creazioni che ho fatto, trasformazioni, così tanto per passare un po' di tempo assieme. Prima di girare la telecamera e mostrarvi tutte queste cosine meravigliose che a me danno tanta gioia, vi devo far vedere un portapenne, perché mi è stato richiesto da Nick Sissiclietta, mi ha chiesto di mostrare questo portapenne che spesso si vede sul sfondo del video. Se glielo faccio rivedere, l'avevo preso da Shein, però viene venduto sia da Temu che Aliexpress, ed è questo portapenne con questa porticina, io di solito metto la gomma, cosa che di solito perdo, e qui in questo sportellino così si trovano facilmente. Ha due scomparti, no, ne ha uno, e qui sopra un punto di appoggio dove si possono mettere puntine, graffette e via dicendo, e poi gli adesivi sono stati attaccati, sono arrivati insieme al portapenne. Adesso giro la telecamera, perché queste cosine vanno viste da un'altra prospettiva, cioè mostrarvele così non è la stessa cosa che vederle da giù, quindi ci vediamo. Eccoci con il mio mondo fatato, meraviglioso, e vi illustro un po' le cose che ho preso in questi mesi, in questi mesi c'è qualche creazione, qualcosa che ho acquistato, e via dicendo, e poi la trasformazione che vi dicevo. Allora, una, vediamo se riusciamo a metterlo qua, un'agenda che ho acquistato, ho messo il video su Instagram, è questa dell'orsetto in A6, questa agendina, così, con questa plastica così morbida, veramente è una bellissima esperienza sensoriale questa copertina, con l'orsetto. Adesso credo che queste non ci siano più, e niente, è arrivato tutto in una scatola, con un kit non molto imballato bene, era un po' tutta spiaccicata questa scatola, sinceramente, e all'interno del kit, appunto, di questa, di questa agendina, c'erano anche queste due buste. Poi all'interno c'erano anche, adesso su Aliexpress, vendono un po' delle agende con adesivi, cose insieme, c'erano anche washi tape, insomma, su Instagram comunque l'ho messo il reel, potete andare a vederlo lì, questa è una parte dei cartoncini, e l'interno è arrivato da sistemare, c'è una cernierina qua, così, nel kit facevano sempre parte, questi cartoncini, che sono i mesi dell'anno, naturalmente è a calendario perpetuo, dove si va a cerchiare, magari quello che ci interessa, va in base, ognuno lo utilizza per l'anno che vuole, ovviamente, e mi piaceva tanto il fatto dell'orsetto, anche le decorazioni, cioè anche la tipologia di ref l'interno, poi, insieme nel kit, c'erano dei post-it, questi sono una parte, questi divisori, io ho già cominciato i divisori a decorarli da questo lato qua, perché erano bianchi, e non mi piacevano, li ho decorati con dei washi tape, che hanno mandato loro, quindi uno così, scozzese, rosa e marrone, questo con gli orsetti, e questo ho fatto così, e poi, questi sono i post-it, che facevano sempre parte, poi ho aggiunto qualche, qualche adesivo, poi abbiamo il mensile, che io ho già scritto, marzo, l'ho decorato in questo modo, dovrei andare a scrivere, anche se io, come voi sapete già, utilizzo principalmente, questa agenda, questa è l'agenda che utilizzo, quest'anno, quindi le altre, magari le decoro e basta, qui per esempio, ho scritto, ma qui non so se scriverò, vedremo, insomma, tanto mi piace comunque decorare, attaccare adesivi, e cose del genere, ecco ne vedete, uno completamente vuoto, ce ne sono pochi, non credo neanche, che ci sia per tutti i 12 mesi, però basta fare le fotocopie, e si ha, poi altro, divisorio era questo, sempre decorato da me, poi c'erano queste pagine qua, così, con l'orsetto, queste, mi piaceva tantissimo, il refill, il prezzo di questo kit, completo, non era economico, perché su Aliexpress, ormai vediamo, prezzi veramente aumentati, con tanto di spese di spedizione, forse il più conveniente, adesso è Temu, o Shin, ma anche Shin, non permette più di avere tanti sconti, specialmente sulla cancelleria, solo i punti, quello che si raccoglie dei punti giornalieri, ma gli sconti vengono applicati solo sul vestire, credo, e vabbè, questi insomma sono l'altra parte, insomma all'interno, guardate, molto carino, e vi dicevo che questa agendina, su Aliexpress, però, mi sembra terminata, io guarderò, se posso mettervi un link, se siete interessate, è davvero, un amore, e come vedete, insomma, questi sono tutti gli interni, bla bla bla, tutte le righe, una tasca con altri cartoncini, come quelli lì, due fogliettini di stickers, che io ho già, ne ho già utilizzato qualcuno, vedete altri cartoncini, e un cartoncino, poi avevo preso da Temu, o Aliexpress, adesso non mi ricordo bene, anche le penne a orsetto, fatte così, che scrivono tutte nere, scrivono benissimo, guardate che carucce, poi le avevo prese anche su rosa, vediamo se riesco a farvele vedere, eccole qua, la tipologia era questa, però ha il coniglietto, ho fatto anche una scorta di penne, quelle non costavano tanto, ma credo di averle prese da Temu, eccole qua, tutte penne orsetto, con gli orsetti, poi sempre in tema kawaii, perché questo è, sono due o tre mesi, che ormai sono proprio solo, di questo genere, mi sono fatta questa Midori, che è appunto a tema kawaii, con lo sfondo della copertina, è un kit digitale di Etsy, che ha queste carte scozzesi, rosa, marrone, bellissime, ho fatto la copertina, e mentre l'immagine principale, questa l'ho presa da Pinterest, qui altre immagini da Pinterest, questa è un'altra, sempre immagine di Etsy, cioè che ho preso su Etsy, carte da stampare, kit acquistato, e questa è un'immagine di Pinterest, che ho ritagliato, e incollato sulla copertina, del tacuino, allora io il tacuini, li ho fatti a quadritti, perché dovessi mai utilizzarli, preferisco i quadritti, sul retro, ho messo sempre, un'immagine di Pinterest, un'altra immagine di Pinterest, qua davanti, questa volta ho usato, come copertina, uno sfondo del, cioè la parte sotto, è uno sfondo, sempre kit digitali, però sul marrone e panna, che avevo, perché ne ho davvero tantissimi, sempre di Etsy, dove ho incollato, questa bimbetta, quindi l'interno, è sempre a quadretti, e poi questo coniglietto, nella tazza, sempre trovato su Pinterest, e il retro è così, tasca con dentro, immagini così, e questa è una, delle creazioni che ho fatto, poi ho fatto questo, che è, un personaggino della Sarion, che mi piace tantissimo, io lo chiamerei Pociacco, ma non so se si dica così, ovviamente, ci sarà tutta un'altra pronuncia, a me viene da dirlo così, insomma, come lo leggo, e ho utilizzato qui invece, una copertina con, per la copertina ho utilizzato, una carta di quelle, tutte cioccolatose, ho cioccolato fra, alla fragola, cioè proprio, no scusate, ne ho vari colori, così, naturalmente il cioccolato classico, poi c'è quello, quello rosa, varie carte, molto bello quel kit, insomma, ho voluto fare, in questo modo, questa immagine che vedete, è stata incollata, è presa da Pinterest, mentre appunto, tutte queste, basi qua, di cioccolata, è presa da un kit digitale, di Etsy, spero di dire tutto giusto, perché qua, tra Etsy e Pinterest, mi confondo, altro personaggio che adoro, è questo, pom pom purin, sario, c'è anche Hello Kitty, ma a me quella non interessa, ho fatto un quadernino così, sempre a quadretti, poi, uno fatto così, sempre col cagnolino, che abbiamo davanti, e poi un altro, con questo personaggio qua, sul giallo, e dietro, insomma, sempre le solite cose, io anche, queste Midori, io le faccio anche solo per il gusto di guardarle, cioè, non è che mi interessa molto, se le vado a utilizzare o no, anche perché, io mi nutro proprio di queste immagini, ci sono periodi, in cui proprio ho bisogno, di vedere queste cose, ho preso l'agenda, questa qua, con il gatto, ve l'ho mostrata, che l'avevo preso su Aliexpress, veramente, un'agenda, un'agenda, meravigliosa, fatta benissimo, io l'ho decorata, in questo modo, con tutti i gatti, era un kit digitale, che avevo, vabbè, e qui, vabbè, ci ho toccato dei gatti, così, questa è una pagina del refill, poi il refill, che avevo acquistato, e che vi ho anche mostrato, in un video, alla fine non lo sto utilizzando, e questa anche la tirerò via, perché tanto non mi serve, e ho cominciato a decorare, in questo modo, prima qua, per utilizzare un po' di adesivi, che avevo, e poi, utilizzando sempre altri adesivi, questi erano quelli in scatola, che vi ho mostrato, in un video, qui altri adesivi, che avevo di quelli a ritaglio, vedete fatti, in questo modo, io ho visto, ci sono tanti, tanta ispirazione, su Pinterest, e poi dopo, bene o male, si capisce come fare, tutte queste cosine, che sarebbero per andare a scrivere, poi, ma io assolutamente, non scriverò niente, perché mi piacciono così, si va a vedere, come si fanno le varie, etichette, diciamo, tutte fatte a mano, e poi dopo si attaccano, i vari, i vari adesivi, qui ho utilizzato, qui ho utilizzato, ancora, delle pagine, che c'erano nel refill, quelle col puntini, bullet journal, che ci vedete ancora, il gattino qua, faceva parte appunto, del refill, dell'agenda, mentre, un'altra parte, la settimana, il mensile, li ho tolti, perché tanto, non l'utilizzo, in questo momento, magari più avanti, intanto, lo utilizzo così, vedete, sul giallo, poi, sul rosa, qui metto sempre, le foto su Instagram, delle cose che faccio, sul rosso, sul verde, sul viola, verde ancora, qui sono immagini, prese da Pinterest, che ho ritagliato, perché non è che per forza, bisogna avere tutti gli adesivi, si possono anche, stampare da Pinterest, e poi andare a ritagliare, è dedicata a San Valentino, anche se non è una festa, che a me interessa, era giusto per dedicare, una pagina, a questi adesivi, che avevo tutti dedicati all'amore, poi questa, queste immagini sono state tagliate da Pinterest, qui insomma, si disegnano le varie, le varie etichette, queste sono delle, non so se sono delle, degli adesivi che vi avevo già mostrato, simpatici, così si possono fare anche del, questo è journaling praticamente, si fanno degli, dei collage così, con vari adesivi, poi alcune cose si disegnano, questa è dedicata al cibo, tutta sull'azzurro, dove si va a fare, tutte le cornici, per dopo mettere dentro gli adesivi, è molto, mi piace molto questa tipologia qua, questa invece è stata fatta, nel video scorso, vi ho mostrato degli adesivi, di vari colori, e poi dopo ci ho attaccato i gattini, sempre adesivi, che vi ho mostrato in un video acquisti, queste sono sempre, adesivi che vi ho mostrato, tutte dedicate al pane, questa è stata presa da Pinterest, anche questi adesivi che vi ho mostrato, che ho allestito, queste due pagine così, poi abbiamo questa, queste, fatta un po' così in misto, alcuni adesivi ritagliati, poi incollati, immagini prese da Pinterest, ritagliate, e ho attaccato tutti questi post-it, che avevo preso da Sinsai, perché Sinsai, è un altro negozio, che offre delle belle cosine, e poi come ultima pagina, ho fatto questa, tutte sugli adesivi del blu, con i post-it blu, che ho stampato da Pinterest, perché non ne avevo, li ho stampati da Pinterest, e poi li ho, ho sistemato così, con gli adesivi, che vi avevo mostrato, nel video, nell'ultimo video acquisti, queste sono immagini, sono pagine, tutte prese, che ho preso da, ho preso due blocchi, due refill, da Amazon, che sono perfette, per fare questa tipologia di pagine, dove bisogna, fare, come in questo caso, dove si vanno a fare le etichette, o quadretti, o queste qua, con i puntini, poi qui in fondo, ho ancora, vedete ancora, il refill del gattino, e poi qui c'è il resto, sull'onda del fatto, che questa agenda, mi era piaciuta tantissimo, ed è un A5, mi sono presa anche un A6, che è questa, sempre il gattino, però questa volta, con sfondo viola, e dentro, abbiamo, naturalmente lo mandano, da inserire il refill, non arriva così inserito, ho inserito il refill, che mandano, e quello che vedete qua, c'era anche in versione A5, le settimane non durano, non sono per 12 mesi, bisogna fotocopiare qua, perché non è, cioè per un anno, non c'è abbastanza, non ci sarebbero le settimane, il mensile non c'è neanche, forse questo si può, ma neanche, sì, boh, non lo so, comunque, questo è il refill, che arriva, e, eh, mi prenderò probabilmente, il refill tutto a puntini, del bullet journal, e lo metterò qua, poi, un'altra agenda, che sto utilizzando, per decorare, avendo tantissimo materiale, eh, alcune agende, le utilizzo in un modo, altre in un altro, ho questa, che sono quelle, trasparenti, e questa, vedete, c'è la zampetta, del gattino, ho delle clip, fatte così, prese da, boh, non mi ricordo più se, ormai, non mi ricordo più se è Shin, Aliexpress, o Temu, questa è la copertina che ho fatto, che, journal, e viene, e viene decorato così, in questo modo, e metto le scritte, quelle che ho, adesive, che avevo preso tempo fa, perché io, non saprei neanche cosa scrivere su queste, e quindi, li decoro in questo modo, metto un po' di adesivi, di, di vari tipi, questi sono più che altro, decorate con i post-it, così, o adesivi grandi, con i post-it sotto, e poi, dipende sempre dalle giornate, ci sono giornate che ho voglia di decorare, piccole cose, delle giornate che ho voglia di decorare, su spazi grandi, dipende com'è, la giornata, e questi sono tutte cose, che ho stampato da Pinterest, dedicate a Snoopy, perché è una mia grande passione, qui, ho un refill, fatto di questi, tutto a quadretti, e queste insomma, sono proprio all'inizio, perché ho deciso, che volevo fare anche, utilizzare anche tanti adesivi, gatto, dei gatti, tante cose che ho, in questo modo, così le pagine si riempiono subito, e non c'è neanche tanto da lavorare, un'altra agendina, che, no agendina, un altro notebook, che vi ho mostrato, l'ultimo, nell'ultimo video acquisti, era questo, che sono sempre, per decorare, sempre nello stesso modo, che vi ho mostrato, nell'agenda grande, però, si possono fare, anche così, vabbè, anche nell'agenda grande, si possono fare così, però mi piaceva tanto, questa cosa, di poter cambiare, come mi pare, e anche questo, è a quadretti, anche qui, in base alla giornata, scelgo, io amo, non avere sempre la stessa cosa, mi piacciono copertine diverse, magari ne ho 3, 4, che sto utilizzando, e va bene così, poi, un altro tipo, di notebook, che sto decorando, dove metto i video, su Instagram, quelli velocizzati, è questo, me l'avevo mostrato, mi sembra, l'altra volta, quando l'ho preso, non era così, non era quel personaggino, dell'assario, ma era così, praticamente, era fatto, in questo modo, come copertina, aveva questa, bimbetta qua, ed è una copertina, di quelle, di plastica, morbida, solo che a me, dopo un po', non mi piaceva, quando me la vedevo, perché mi sembra sempre, che i colori, siano scoloriti, dal sole, non so, non mi piace, questa copertina, quindi l'ho tolta, e mi sono, fatta una copertina, io con, vabbè, non è che, c'è questa grande scienza, dietro, una copertina, con, il cartoncino, un cartoncino, di stampa, stampato da Etsy, con le carte, queste qua, marroni, e poi, dopo ciò attaccato, questa è trovata, su Pinterest, è fatto così, e questo, era, un, quadernino, che era arrivato, le prime pagine, sono così, già stampate, vedete, vi danno un po', l'impressione, di come, si può, andare a decorare, è un po', la, è un po', la tipologia di decorazione, delle, delle giapponesi, delle coreane, e via dicendo, qui poi ho messo, degli adesivi io, perché qui non c'era nessuna figura, ho aggiunto, degli adesivi io, fatto, solo con adesivi, qui no, questo l'ho fatto io, questo ho attaccato, degli adesivi io, vabbè, insomma, e poi, queste insomma, sono le pagine, che ho cominciato, a decorare, questi qua, sono tutti, quegli adesivi, che vanno ritagliati, che restano lì da anni, se no, questi qui sono quelli in striscia, che vi avevo mostrato, ehm, nell'ultimo video, acquisti, anche questo, era una tipologia, vedete, sono più o meno, come quelli dell'agenda grande, solo che questi qua, faccio, faccio il video, lo metto su Instagram, velocizzato, perché mi piacciono, perché mi diverto, altri tre tacuini, sempre da utilizzare, più o meno in quel modo, sono questi, presi tutti e tre, da Temu, perché a prezzi, più convenienti, secondo me, è abbastanza veloce, nelle spedizioni, su Shin, non li trovate questi, mentre su Temu, sì, a volte sono in offerta, anche, quindi questo, con l'orsetto gelataio, c'era questo foglio, di adesivi, poi abbiamo, questo verde, con la bimbetta così, che aveva, che ha, in dotazione, questi due adesivi, dentro sono, tutti, a quadri, e poi, per ultimo, mi è arrivato questo, che è leggermente, sberluccicoso, non so se lo vedete, tutto brillantinato, bellissimo, con sta bimbetta, con gli occhiali rotondi, e, adesivi, aveva questo, e anche, il porta, un segnapagina, insomma, un segnapagina, guarda che bello, che è dentro questo, poi ci sono anche altre fantasie, io l'ho preso così, no, solo davanti c'è, ma, mi piace un sacco, sempre da Aliexpress, ho preso questo kit, della Sario, sempre del, del personaggino, questo qua, un po' ciacco, e questo è, sarebbe praticamente, non è un notebook, di quelli normali, ma è un Kimbor, Kimbor, tanto io l'ho preso, magari più avanti, lo utilizzerò, prossimo anno, vediamo, guardate che carino che è, qui c'è una tasca, praticamente, è fatto in questo modo, abbiamo, vabbè, l'anno, calendario perpetuo, qua ci sono delle pagine a quadretti, è molto, molto leggera, è come, come pagina, poi questo, non so cosa serve, non saprei, però c'è scritto tutti i mesi, presumo quindi, una specie di mensile, e poi abbiamo il mensile, il mensile, quello solito che conosciamo noi, ci sono tutte le pagine di mensile, ci sono due nastrini, bello giallo e marrone, mi piace troppo questa combinazione, quindi 12 mesi, e poi c'è la settimana, fatta così, la settimana, è una pagina a quadretti, molto, che non costava neanche tanto, quando avevo l'ho pagato, sui 20 euro, poi nel kit qua, c'è questo, che è un washi tape, sempre a tema, ovviamente, una clip, per tenere fermo magari le pagine, e poi, questo, questi post-it, e poi, due timbrini, due timbrini, eccoli qua, due timbri, con due posizioni diverse, uno è seduto, e uno in piedi, di questo, cagnolino, lo adoro, questo lo tengo qua, sulla scrivania, mi piace troppo, ogni volta che lo vedo, mi dà un sacco di gioia, perché mi piace un sacco, questi due colori, insieme, è veramente una combinazione, naturalmente ci sono altri, altri personaggi, mi sembra che c'è, cinnamon roll, ci dovrebbe essere anche, hello kitty, mi sembra, oppure melody, non me la ricordo, insomma, quella rosa, no, hello kitty no, un'altra rosa, sempre fatti in questa maniera, i kimbor, vanno tantissimo i kimbor, sono, appunto, della specie di agendine, e, e ne fanno diversi, diverse, a diversi temi, ecco, da, da action, settimane fa, ormai, ormai non ci sono più andata, perché ero andata a prendermi delle cose per i capelli, che ho ripreso perché mi trovo benissimo, poi dopo faremo anche un video dei prodotti di action, ho preso questo bullet journal, a 2 euro e qualcosa, o 3 euro, adesso non mi ricordo, che può sempre andare bene, così con la spirale, mi piacciono molto questi fatti così, ed è una specie di agenda, qui abbiamo un righello, ci sono altre fantasie, non soltanto questa qua sul rosa, ma rosa così cipria, chiaro, ce n'è anche sul verde, io ho preso questa, qui non so come si possa utilizzare questo righello, se non tagliandolo, perché non credo si possa utilizzare così, qui abbiamo anche due pagine di adesivi, qui abbiamo la visione annuale, credo, o settimanale, adesso io non capisco, no, dell'anno, dell'anno, qui c'è tutta la cosa dei compleanni, e poi il mensile, il mensile, abbiamo una pagina così, si vede poco forse, perché è tutto molto chiaro, to do, i compleanni, e poi è fatto così, questa è la settimana, su due pagine, ed è tutto a puntini, e poi tutti i mesi, non è un'agenda di quelle super decorate, ma il bello è questo, perché qui ti puoi sbizzarrire, e decorarla come ti pare a te, questa è una di quelle agende, che così spartane, così minimaliste, per una come me, si prestano ad essere trasformate, poi in fondo, si ha tutte queste pagine, qua così, random, così, tutti quei puntini, e poi abbiamo delle tasche, fatte in questo modo, io subito non le avevo notate, le prime volte, quando andavo da action, perché, ero attratta da altro, ma poi avendo esaurito, praticamente tutto, avendo visto tutto, mi sono soffermata, anche su queste, poi vabbè di action, ho preso qualche blocco, qualche tacquino, che mi serve per il lavoro, ma sono veramente, molto carine, un altro posto, che ha delle cosine carine, non tantissime, però, che mi sta piacendo molto, è Sinsai, Sinsai, c'ero andata con mio marito, la prima volta, e non avevo visto niente, che mi piaceva, ma poi, sono tornata da sola, qualche settimana dopo, e ho trovato, questi, bellissimi, prodotti, articoli, di, topolino, che io adoro, in questa versione, così, mi piace tantissimo, poi io comunque, questa roba qua, la utilizzo anche per il lavoro, perché scrivo davvero molto, scrivo tanto a computer, ma anche, con la penna, e quindi, non so se lo utilizzerò, sul lavoro, vedremo, o può essere sempre utilizzato, come journal, per decorare, da decorare, questo è, in versione nera, così, con le scritte rosa, troppo carino, era naturalmente chiuso, credo averlo pagato, 2 euro 89, 3 euro, adesso, ho visto che non c'è più topolino, ma c'è barbie, ma a me barbie non interessa, e quindi, non ho preso nulla di barbie, e poi, questi tre tacchini, che erano messi assieme, 2 euro e qualcosa, così, a quadretti, ma guardate, le immagini, che belle, cioè, io veramente, impazzisco per questa roba, che naturalmente, verrà messa in un cassetto, e verrà attinto ogni tanto, quando mi viene in mente, che mi serve, insomma, per fare journal, o cose così, e poi, ho preso anche queste penne, sono bianche, nere, rosa, e scrivono nero, e scrivono, tra l'altro, molto bene, andiamo a vedere qua, vi faccio vedere, un bel nero, io ero convinta, che fossero quelle, con la punta, invece, con la punta fine, invece no, di solito, sono quelle, invece no, queste qua, questa serie, questo set di penne, da quattro, no, da sei, due euro, e novantanove, poi, ho preso, il planner, anche, di, Sinsai, che è questo, il planner di Sinsai, è fatto in questo modo, è in orizzontale, questa cosa, era molto originale, però, secondo voi, io ho mantenuto, il suo originale, interno, no, no, perché l'interno, era questo, una cosa, orrenda, a me, non piace per niente, questa tipologia di, cioè, che cos'è sta roba, adesso, io li tengo, perché posso scrivere, sempre dietro, andrò a chiudere, con due anelli, di quelli che ho, di quelli che usavo, per fare i journal, quelli che vendevo, e questo, può essere utilizzato, come, blocco, per andare a scrivere, anche per il lavoro, mi va benissimo, si utilizza, guardate, era solo questa roba qua, praticamente inutile, quindi, a me piaceva tantissimo, la copertina, così, finta pelle rosa, mi piaceva troppo, questa tipologia, e mi piacciono anche, i due anelli, anche se non sono belli, non sono pratici, da utilizzare, poi io ci ho messo, i rivetti, anche, ma non so quanto tengano, gli anelli carini, ma non pratici, da aprire, e chiudere, non molto pratici, però, vabbè, quindi dentro, l'ho trasformata, perché io, naturalmente, in quella maniera, non lo volevo, e andiamo a vedere, come l'ho trasformata, naturalmente, kawaii, qui ci devo mettere, dei post-it, mi sono fatta, una tasca così, e mi sono fatta, la copertina, dove ho scritto, planner, queste qua, sono sempre, quel kit digitale, della Midori, di prima, che vi ho mostrato, tutto così, scozzese, e poi, mi sono presa, sempre su Etsy, questo kit digitale, così, qui l'ho scritto io, con gli adesivi, questo è, il mensile, dove dietro, ho stampato, i quadretti, perché dietro, potrò andare a decorarlo, quindi avrà due funzioni, sarà un planner, e servirà anche per la decorazione, e poi questa è la settimana, io ho fatto, ho fatto quattro settimane, per il mese, mi piaceva tanto, appunto, il tema kawaii, perché io sto ferma, in kawaii, naturalmente, nel kawaii, qui c'è tutto, il planner, di tutti, i dodici mesi, ho stampato tutto, mentre di qua, ho una cosa, che avevo fatto, che mi piaceva tanto, di Snoopy, è una specie di journal, Snoopy, ma, che può contenere di tutto, immagini Snoopy, cose così, perché mi piace, ho fatto questo, poi, tante cose, tante immagini, le trovate tutte su Pinterest, e poi ci aggiungo sempre, mi piaceva, e questo, è un refill, che faceva parte, di un, quaderno di Tiger, un quaderno di Tiger, che io ho, smembrato, e, no, non era smembrato, perché non mi ricordo più se era, sì, era spirale, credo, no, non era spirale, ma non me lo ricordo, comunque, è sempre, vedete, coi puntini, poi ci ho messo un po' di, washi tape, così per chiudere dei buchi, che c'erano, ma forse era buchi, ma non me lo ricordo, sì, aveva i buchi, poi qui dietro, c'è la pagina finale, sempre dedicata, perché prima, questo journal, era per conto suo, questa qua, l'ho attaccata io, per dare, insomma, perché era bianco, insomma, vedo l'ora che venga l'anno prossimo, per utilizzare questo planner, che secondo me, l'anno prossimo, utilizzerò, che sarà, diventerà bello, bello, cicciotto, grande, come piacciono a me, e questo, insomma, andremo a riutilizzarlo, va bene, dai, ultima cosa, vi mostro l'astuccio, biscotto, vi ricordate che me li ero fatta io, l'astuccio biscotto, con la gomma crepla, adesso me lo son preso da, da Sheen, o da Temu, non me lo ricordo, insomma, non, non, non ce la facevo, continuare a guardarlo, e vedere quanto bello era, e quindi, me lo son preso, perché sulla mia scrivania, sta benissimo, va bene ragazze, da tante chiacchiere, di cancelleria, che sapete che adoro, io spero di avervi fatto un po' di compagnia, vi mando un grosso bacio, alla prossima, ciao ciao,